che mezzo è questo? questo è un modo guzzi gtv 500 anno di costruzione 1948 oltre 100 i partecipanti, 109 per la precisione al raduno di auto e moto d'epoca che si è svolto presso il Santuario delle Vertighe a Monte San Savino una iniziativa che ha avuto appunto un grande successo ed il cui ricavato andrà in favore dello stesso santuario il percorso è di 35 km, tocca alcuni paesi della Val di Chiana fra cui Monte San Savino, Badialpino, Pia Val Toppo e torniamo per la frazione di Marciano della Chiana che è cesa e torniamo qui al Santuario e facciamo l'ingresso dall'autostrada di cui il Santuario è patrono per cui facciamo la sfilata e rientriamo qui al Santuario Tra i mezzi più antichi che hanno calcato le strade della Val di Chiana una Moto Guzzi appunto del 1948 e una Fiat 500 dello stesso anno